Fino come la sai fare, dopo ci provo, dopo ci provo, dopo ci provo, disegno una tra l'altro ruga ninja con due cattaneo, va bene, fatemi parlare nel fumetto un attimo e poi ci sono, e ciao, ora ti seguirò, grazie Fatima, ma, ma con due A, quindi non so come si può, maite, grazie per il follow, Fatima gentilissima, e grazie, grazie Fatima per il follow, vi mi raccomando, eh, se mi voleste aiutare anche voi con tipo un piccolissimo click e seguire, grazie, sareste gentissimi, veramente grazie. Allora, dove si compra? Ti ringrazio per l'interesse, comunque il mio fumetto, questo qua, sempre vita da comparsa, si può trovare solamente su Amazon, banalmente o tramite link in bio, o anche solo cercando vita da comparsa nella parte ricerca, e costa 12 euro per 181 pagine. Ciao, tanti auguri, veramente, tanti auguri, auguri, se volete fare un piccolo spam di auguri, sarebbe molto figa come cosa. Ciao, allminux, benvenuti in live, ciao anche Chloe e Solidog, quanto costa? 12 euro, ti ringrazio per l'interesse, grazie di niente Lorenzo, se mi vuoi aiutare, saresti molto gentile, ti auguro una buona lettura. Ti ho seguito anch'io, grazie allora, Cristo Signore Z9, grazie per il follow, gentilissimo, grazie per avermi seguito, grazie del supporto, veramente grazie. Ciao Mati, bentornati in live, ciao Lerodana, intanto, e quanti fumetti hai fatto? Tu lo dico subito, ho fatto questo qua, che è un fumetto, banalmente fatto a mo' di fumetto, come vedi, poi ho fatto un libro, che è questo qua, aspettate che lo prendo, ci sono eh, questo qua, ok. Stavo spostando un paio di cose, che è un libro, fatto proprio a mo' di libro, devo dire, ciao Cleva, buona giornata e grazie per essere stati in live, ciao Melania, mi sono listita da qualsiasi account, ti ringrazio, mi era troppo gentile, grazie per il supporto, veramente grazie. E allora, dai, 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 che siamo arrivati agli 800, potremmo addirittura provare a puntare agli 820, ne mancano 7, che sono leggermente tanti, 7 followers da fare, ma io sono fiducioso che mancano 20, anzi 18 minuti live, e secondo me in 18 minuti 7 followers ce la si può fare, veramente grazie per il supporto. Conosci di anime? Sì, 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 ho visti tantissimi, tra i più famosi credo di averli visti quasi tutti, veramente quasi tutti. Hai animali domestici? No, mai avuti, proprio mai, mai, mai avuto animali domestici, lo so, non odiatemi, non odiatemi. Allora, dopo disegno, dopo disegno, dopo disegno, i miei 10 minuti passano disegno, parlo 10 minuti delle mie cose che avevo detto che alternavo un po', parli del libro di Yes, vuoi la trama del libro, questo qua, o il libro intendevi il fumetto, questo qua? Perché questo è un fumetto e questo è un libro. Intanto mi sono riuscito, allora grazie anche a Carlo per il follow, grazie Carlo per avermi seguito, e con l'aiuto di Carlo, allora, mi mancano 6 di followers agli 820. Dai che manca sempre meno, e veramente, grazie dell'aiuto, mancano solo 6 followers che fai, e parlo un po' delle mie opere, il mio fumetto, il mio libro, eccetera, eccetera. Dove ho imparato a disegnare? Disegnando, banalmente, ho imparato a disegnare e disegnando, infatti se guardi le prime tavole del fumetto erano ancora con uno stile che io chiamo acerbo, in realtà, come vedi, sono un pochino strani i personaggi, un pochino sproporzionati, pian piano ho imparato anche un po' a perfezionare il mio stile, e a fare qualcosa di più carino. Leggi la trama di 3 ragioni, devo leggerla, vi leggo questa qua che la trova in breve messa dietro, proprio la cosa più in breve che ci possa essere, intanto grazie, fatemi ringraziare al volo anche Giada per avermi seguito, grazie, e con l'aiuto di Giada mancano solo 5 followers all'obiettivo, vi leggo la trama, e appunto grazie tantissimo, se appunto nel mentre che vi leggo la trama anche solo altri 5 di voi mi volessero aiutare a seguirmi, comunque, se cercate un'incredibile storia di successo, guardate altrove, qui troverete l'avventura di un asperante attore, i cui sogni saranno ostacolati da personaggi bizzarri e da tanti imprevisti, durante due intense giornate di riprese come comparsa. Questa è la trama in breve, sei brevissimo a disegnare, ti ringrazio, troppo gentile, quanto tempo ci hai messo? Ci ho messo un anno e due mesi, ci ho messo veramente tanto, che lavoro fai? Lavori in un fast food? Ciao Neymar, bentornato in live, c'è anche la copertina rigida in realtà, sì, di questo fumetto, aspetta che la prendo, c'è anche la copertina rigida che è questa, è un pochino più grande e come vedete questa, sei un grande, non scorda, ti ringrazio Ludo, troppo gentile, come vedete questa è la copertina flessibile, mentre questa è il cartonato rigido, proprio rigido questo. Allora, mi ricordo ancora quando eri 2783 iscritti e ornai più di 34.000, ti dico di più, siamo quasi quasi quasissimo a appunto i 39.920 followers, ne mancano 3, ora mi sono perso, non ho visto chi sono stati i due che mi hanno seguito, però vi ringrazio entrambi, gentilissimi, che dai che mancano solo 3 followers, allora hai 920 followers, ci siamo quasi, manca proprio poco così, è veramente grazie di cosa, ma proprio in una maniera infinita per tutto l'aiuto che mi state dando. Allora, lavori per un'azienda scrittura oppure è un hobby? No, questo è un hobby, è un hobby, lavori in un fast food io, lavori in un fast food, comunque ci sono due versioni, dentro sono uguali, cambia appunto l'esterno e le dimensioni, inoltre questo costa 12 euro e questo ne costa 16 se non sbaglio, non vorrei dire una cavolata, 18 forse addirittura, sai che non mi ricordo, è da un po' che non ci guardo, aspetta che controllo per sicurezza, non odiatemi per favore. Allora, due secondi, sono in dubbio tra 18, ok sì, questo costa 12 e questo 18, l'hai fatto per fare più soldi? In realtà no, paradossalmente ci sono costi di stampa diversi, sia per il fumetto flessibile e per tenere i girà, e io guadagno potenzialmente più soldi con quello che costa di meno, cioè con quello che costa 10 euro piuttosto che con l'altro, questa è un po' la cosa paradossale secondo me, però vabbè dai. Ciao Ferie, non so se ti ricordi di me, ma qualche mese fa ti stico sempre, ciao Tollo, sai che mi ricordo, mi sa, ma sono già passati tanti, tanto tempo, ho passato, comunque ho bentornato in live, ho bentornato, va bene, grazie Dani, grazie, ciao Johnny, certo che ti saluto e che mangi stasera, non lo so, dipende, se non ho nessuno in casa che mi ha preparato niente, mi mangio una piadina. Comunque grazie Dide Pleba7 per avermi seguito, grazie mille, io col timer qua di fianco e confermo che mancano solo due followers all'obiettivo, cioè ci siamo quasi, mancano ufficialmente solo due followers, grazie mille dell'aiuto. E allora adesso che mancano due followers, comunque non parlo in generale, ma parlo proprio con te che ancora non mi hai voluto seguire. Sappi che ti tengo d'occhio. Che fai? Parlo del mio fumetto. Allora. Allora, allora, allora. Ma dove stai leggendo? Ho le chat qua di fianco, c'è la di Youtube, che ti tic tocco, le entrambe di qua. Ciao i Lovebook, ti ringrazio per il supporto. Ti ringrazio per il supporto. Che lavoro fai? Lavoro in un fast food. Non vi dico il nome perché vorrei non divulgare il loro nome per non fare pubblicità gratuita, però lavoro in un fast food, diciamo. Danielini, sei di Puglia? Non so. No, sono romagnolo, romagnolo. Sono di Imola, che è vicino Bologna. Buona giornata, Gianni Gamer, bentrati live. Bentornato. Can I know what she's saying in English, please? I wanna understand. Hola, Star06. Welcome to my live. I'm from Italy and I speak of my comic. This is my comic and this live is for my comic. I speak the drama, the plot, and the character. In inglese è difficile. McDonald's o Burger King? Allora, in mia città a Imola non c'è il Burger King, quindi tipo non lo mangio da un'infinità. Saranno dieci anni che non mangio il Burger King, quindi per forza ti dico, Rai, dove preferisco il McDonald's? Allora. Mi sfogli qualche pagina? Certo, intanto fatemi ringraziare anche Luca per avermi seguito. Grazie, grazie, grazie per il follow, Luca gentilissimo. E con l'aiuto di Luca, comunque io confermo al 100% che manca un solo followers ai 920. Cioè, ormai ci siamo quasi, veramente grazie mille. E dai che manca un followers solo all'obiettivo, ci siamo, eh. Ci siamo quasi, manca un followers solo e veramente grazie. Ciao Giacomo, bentornati in live. Pizza o pasta?